Questa è una farm speciale per farmare il legno di Dark Oak, ma non ti preoccupare, adesso ti spiego tutto io. Per l'esattezza stiamo parlando di una farm di legno Java Edition che vi permetterà di ottenere fino a 8000 log di legno di quercia scura, un legno non farmabile con le farm tradizionali. Farmare a questa farm è veramente semplicissimo, come avete visto basta rimanere nella posizione FK e tenere premuto il tasso destro del vostro mouse, mentre questa farm spammerà di bommia i vostri alberi e li farà esplodere con 4 tenti duper, uno di lato e 3 sopra. Il raccolto viene poi conservato all'interno di queste ceste e come vedete è veramente parecchio in pochissimo tempo. La farm non è semplice da costruire, ma con il tutorial che ho portato sul mio canale YouTube non avrete nessun problema a ricrearla anche all'interno del vostro mondo. E ora mi sa tanto che è giusto il momento di spammare questo video pure con i vostri amici.